Il presidente di Montecatini Teme Basketball, Giampiero Cardelli, nonché vicepresidente della Lega Nazionale Palacanestro, ha già posto le basi per quella che dovrebbe essere l'ultima edizione del Final Four per la proporzione in A2 nella prossima stagione. Dopodiché, dal 2020, le quattro vincitrici dei rispettivi Tavelloni andranno di tramite in A2. Montecatini sarà con ogni probabilità la sede della ultima edizione del Final Four e sarebbe la quarta edizione consecutiva qui al Palaterme per sancire le tre promozioni nella categoria superiore. Credo proprio che queste Final Four ce le ricorderemo per un pezzo. Voi per le squadre partecipanti è stato un tifo veramente bello. A un certo punto mi sembrava di essere alle partite quelle che contavano di Serie A del Montecatini perché vedere il palazzetto pieno è stato veramente un bello spettacolo. Grazie alla Lega che ha riportato qui le Final Four anche quest'anno, grazie a tutti i miei amici, dirigenti, tutti quelli che fanno parte del Montecatini Basket perché hanno dato una grossa mano e ringrazio anche le forze dell'ordine che sono state bravissime, meravigliose nell'organizzare tutto il servizio di sicurezza. In questi giorni hai tessuto un po' la tela anche per i prossimi anni. il prossimo sarà l'ultimo di queste Final Four, poi però Montecatini potrebbe proporsi anche per le finali di Coppa Italia. Vabbè, allora ho parlato con i dirigenti, con il consiglio direttivo della Lega. Ovviamente dopo tre anni che facciamo le Final Four a Montecatini il prossimo anno sarà l'ultimo perché con la riforma dei campionati poi saranno quattro le promozioni. Ovviamente chi vince i play-off va direttamente in a due. Io credo proprio che dopo tre anni a fila che facciamo queste finali sono venute talmente belle, talmente organizzate bene e poi è anche l'esperienza che conta quando facciamo le cose penso di aver assicurato anche le Final Four del domenica 2019. Per la Coppa Italia vediamo, vediamo, più avanti, con calma.